Mai precedentemente i decreti avevano previsto un bonus per questo tipo di lavoratori, quindi c'è sicuramente una maggiore attenzione nei confronti di questa platea di lavoratori e lavoratrici che sono sicuramente più precari. Il bonus somministrati di 2.400 euro previsto dal decreto sostegni dello scorso marzo interessa una potenziale platea in Abruzzo di 14.477 lavoratori e di 713 lavoratori in Molise. Di questi, due su tre sono uomini e nel 42% dei casi hanno meno di 30 anni. La misura cerca di dare una risposta, seppur parziale, ad una delle categorie più deboli e che ha sofferto maggiormente le conseguenze economiche della pandemia, una precarietà che riguarda in particolare le giovani generazioni. Gli uffici della CGL, tramite la categoria sindacale del NIDIL e il patronato Inca, sono pronti ad assistere i lavoratori interessati a richiedere il bonus ed inoltrare la domanda entro il 31 di maggio. Bisogna aver prestato almeno 30 giorni di lavoro in qualità di lavoratori somministrati nell'anno 2019, 2020 o 2021 e aver perso il lavoro alla data del 23 marzo. Si può essere poi successivamente rioccupati ma non a tempo indeterminato.